38 di velocità Fai gli sprint dal divano al frigorifero Noi 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 L'unica cosa che è venuta voglia è di andare a far la cacca Questa ha fatto la condom challenge Ma che c'ha un preservativo in testa 90 di difesa! Con il naso spazza via la gente Vaffanculo FIFA Wow Benvenuti ragazzi e ragazzi sono un anime Bentornati in questo nuovo video Siamo nel secondo pack opening Su FIFA 16 e oggi finalmente L'ho chiamati pacchetti Promo, ho finito il fiato E visto che mi è piaciuto tantissimo il primo episodio Ecco settimana scorsa Dopo una settimana il nuovo pack opening Superiamo anche questo video il 30.000 mi piace Fatemi sapere nei commenti chi avete trovato Perché oggi andremo a cercare Loro, la squadra della settimana Dani Alves, Higuaín E Aboumeyang Sif Anche se due di loro li ho già avuti di IEA Non è mai quanto se li trovassi in un pacchetto Ovviamente puntiamo ad Higuaín Che è il più forte della settimana Ma sono sicuro che ci divertiremo Anche a prendere per il culo quelli scarsi Quindi prepariamoci subito ad aprire questi 10 pacchetti E spagnare questi 12.000 FIFA Points Incolate lo schermo e buona visione Pure limitata Immagino che spazzatura limitata Che ci hanno buttato in questi pacchetti Andiamo ad aprire il primo Fatica Beyblade E' bello come un babà Adesso questo è straubriaco Questo pure non è che ha messo benissimo Anzi no forse è un uomo Quindi sembra la versione tarocca di Balotelli Però diciamo che tanto tutto fa brodo Perché ci teniamo i contratti Certiamo i giocatori Ci aumentiamo i crediti per comprare Gli altri giocatori Quindi insomma nulla è realmente buttato Andiamo ad aprire il secondo pacchetto E c'è la tattica delfino Aia porca troia Se cadevo sull'asfalto era più comodo Ormai il suo letto non ce la fa più E niente c'è toccato trovare Pirlo Bello E uom Tutti nel giustino Mamma mia I pacchetti limitati cazzo Non vedo l'ora di trovare questi giocatori Andiamo ad aprire il terzo pacchetto Tecnica Power Ranger Boom E' mezzo buono Abbiamo trovato però l'alve Esce sbagliato E niente adesso faccio lo struzzo Speriamo che trovi qualcosa di buono Ehi borra Il figlio della Questo gli mancano gli occhi C'è la controfigura di Dracula Dracula come cazzo si chiamava Io volevo trovare un Eve Io non ci voglio più spacchettare In sto gioco E' Dambilzerian Qualcuno sopra l'80 almeno No eh Ormai è raro pure trovare Sopra gli 80 Ah cazzo ma perché non c'ho la maglia del portogallo Ecco perché Maglia Dai mezzo No no Devo cambiare subito la maglietta La maglia di stefanino porta sfighe Cavolo come ho fatto a scordarmi la maglia del portogallo Quando registravo un video di fifa Non me lo perdonare mai Nuovo pacchetto Non può essere maledetto Nuovo pacchetto Sempre benedetto Ah questo se lo metti al contrario Swiffer Ma ci pulisco casa Questo coso Bello Un bisù Casco E' vero La sicurezza al primo posto Ma non ci guardo neanche quanto vale Mustafi Non mi interessa davvero Ti scarto a prescindere Anche se valevi 100 o 1000 euro E una caccola di drago Mangano tre pacchetti Non lo trovo nessuno FIFA mi odia Io ormai ho perso le speranze Tengo chiusi gli occhi Nella speranza di trovare qualcuno forte Oh Rakitic Me lo ricordo più forte Rakitic Forse vale qualcosa Prego 6000 crediti Ah Gervinio Quello che c'ha l'attaccatore dei capelli su Marte Ne manca uno Vabbè Cose sicuramente li troverò adesso Quello forte Sì voglio proprio vedere Guarda Bello Kagawa Questo pacchetto sapevo che faceva Kagawa Cavolo che bellezza Sti pacchetti rari Non li aprirò mai più Oh 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 Suarez Bidone Questo è il fratello d'abbiati Quello che con le orecchie prende il volo Questo col mento cancella quando sbaglia a scuola Lo usa come cancelletto Perché devo soffrire io nei pacopini Eh Peter Parker Già trovo Spider-Man If E' un'altra cosa Ecco Ispirami feducia Con quella faccia li guarda Commento che proprio trovo il più forte del mondo Sì Infatti Perché se dopo Kuro Shan Il cardo animato è arrivato a Ubo Khan Sprizza gioia da tutti i pori proprio Non è possibile Non trovo nessuno Eh mi sa che è giunta l'ora di spaccare qualche piatto Ah tra l'altro non abbiamo ancora trovato piatti Che peccato Sì Rocko Hunt Vai dai ci continua a trovare le milf Vai Vai tutti nel club e poi si fa l'orgione Con Giorgione Sì ciao Ti saluto che poi già andatene Un pacchetto gratis Wow Vediamo cosa vedo nei miei occhi da pirata Cavolo Mamma mia Merda in poppa Stronsman L'uomo stronzo Io voglio trovare un altro Voglio trovare un man Si voglio un po' come il fatto decentemente Non giurato Ho giurato Ho giurato di non trovare più te Dei tuoi coloni schifosi Che valgono niente Da dove sei uscito da un asilo E da uomini e donne Ma cosa Quegli occhi sono chiusi Ma vai al mare Vai buttati Con un ancora attaccato al collo Che si fa anguillare Insomma l'anguilla qua Ma se alzassimo un goccino Guarda magari prima Dopo li chiamate Un goccino un po' È il tro Cosa Oh Forse mi ascoltano Sono telepatico Marcelo dimmi che vale qualcosina Almeno tu Dai Ficarra Ficarra vale qualcosa Vale qualcosa Ci sta Dai così 5.000 prezzo iniziale Non pensiamoci più Faccio sempre un po' di sconto io Ma immaginate che figata sarebbe Se mettessero le nostre Carte Gli youtuber così a caso Un giorno Oppure ci facessero la carta nostra Su prima Figata sarebbe 84 Fermi tu Questa è una rapina No è una merda Basta Questo neanche ti pronuncio Guarda ciao Piacere di non averti conosciuto Numori strani Farsa sedia Cucu Sette te Sette te E lui è contento Hai capito È tanto Fra poco non lo sarei più Tranquillo Piangerei così tanto Da farne un lago Ma quello È possibile che non trovo niente No devo rifare la stessa cosa di prima Signor Filippo mi scusi Mi potete far trovare Non ho un if Anche si fa schifo Ma almeno faccio un bel pacco di penire Non è No Perfetto La di milk Mi ha dato il latte Ma questo c'ha gli anni di mio padre Cosa cazzo gioca? 38 di velocità Fai gli sprint dal divano al frigorifero È un fan sicuramente di De Carli C'ha solo i denti sopra È inquietante come cosa comunque Sto lo becchi di notte Non è bello Siamo già a 120.000 crediti Cazzo male della creditazione Ricco lo stesso I guai I guai I guai Pepita Ma non so perché Ma questi pack opening Ti fanno credere che sei trovato Qualcuno di realmente forte Che adesso vedi Spagna Real Madrid Mi capisco Oddio Ho trovato chiunque Invece poi La riserva Della riserva dello schifo Tutta questione di swag Swag Ghiolo pacco Swag Ghiolo pacco Non valmi un cazzo Willy Perché quest'anno Hanno messo il 75 Dorati E i 77 Non dorati Non si capisce Ma potrena lasciare Dall'80 In su dorato Almeno capisci Oddio Ho trovato qualcuno Che potrebbe essere minimamente forte Invece mi fa trovare Un shewalk Come Obe Obe Odward Oe gnoe 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 L'unica cosa che mi è venuta voglia E andare a fare la cacca Cioè il secondo pacco Peningenzo C'è a trovare un botto Di doppioni Non si sa come sia possibile C'erano 75 miliardi Di giocatori Già ai doppioni Allora facciamo così Come sempre Andiamo a vedere La squadra della settimana Fingiamo di essere interessati A trovare qualcuno FIFA misericordiosamente Mi dirà Ma si dai uno Te lo faccio trovare Perché mi vado a vedere Le leggende I mortacci Ma non capisco Perché io vado Sulla squadra della settimana E mi fa vedere Le leggende Si ma io voglio vedere Questa squadra La settimana Questa E non me la fa vedere E ok Non sarebbe proprio Scrivuto là una leggenda Questo ha fatto La condom challenge Ma che c'è un preservativo In testa Che bello Cacciare proprio Fibopolis così Proprio lanciarli Proprio per terra Calpestarli Passarci sopra Con il rullo Bagnarli E intanto Non troverei mai nessuno Si Benzima Boom Buonato 2000 crediti Ma io faccio lo swag Parlo da 5000 Lascio salire sopra Cos'è promesse La terra promessa Vai Tornaci a piedi Almeno uno Cristo santo Uno abbiamo trovato Almeno che non trovo Giocatori realmente fortissimi Non li tengo Nel club Alla fine andiamo sempre Solo a cercare Gli if Insomma Giocatori della settimana Le leggende E Villagra Soprattutto Villagra Finalmente Villagra Hai la testa che sembra Un limone di surri Ti prego Vai dal parrucchiere Questo mi tocca Sempre frenzonarlo Mi amavi No Amavi niente Ciao Non ti voglio Non mi guardare Con quella faccia lì Non ti voglio Ciao Manca un pochissimi Pacchetti Dai Beh attaccate a sto Azzo E questo russo Ma chi ti prende Non mi fai dormire la notte Che figata La squadra degli squali La userò come divisa E' l'ora Delle Papere E c'è anche Chiellini Chiellini Boom Novanta di difesa Si col naso Spazza via la gente Oh Manca un passo De scavoli di soccer Chiellini 27 35 mila crediti Buono Così stiamo andando a ruota Anche questo Facciamo la partita Da 5 mila Vediamo poi Chi se lo aggiudica Tienimi nel club O di Castro Facciamo che lo tengo Questo gli hanno piallato La testa Cioè gli manca Tipo dritta Se lo mettere contrario Con le gambe allarga Ci puoi appocciare La giacca All'entrata Per gli ospiti Walker Svedese ranger Si La caccia di rene va questo Oh 1500 crediti Eh Dembélé Il mago del bidet 4000 crediti Buonissimo Dembélé Dembélé Dai Leggenda Vieni qua Leggenda Vieni qua Questo è un haters Si chiama Wutz Rosica al legno Bastardo Unfame Porca E Porca Eva Oddio Aspetta Non è che fa Povo schifo Non fa schifo Per niente Porca Eva Comunque Mi mani male Questo Paco Può finire qua Io spero Vi sia piaciuto Anche se Quest'oggi Purtroppo Non abbiamo trovato Niente A parte Comunque Tre giocatori Da circa 30.000 crediti Ma io Volevo comunque Gli fio Le leggende Mi raccomando 30.000 mi piace Iscrivetevi Cosa avete trovato voi Questa settimana Nei pacchetti Noi ci smicca Domani con un nuovo video Stay angry Stay animal Vaffanculo FIFA